Grazie a tutti voi per essere stati qui in questi due giorni. Io penso che non era scontata una riuscita così positiva di questa nostra discussione che dal mio punto di vista è solo un punto di partenza e voglio dire subito che l'idea di immaginare un appuntamento all'anno, un momento come questo in cui si prova ad alzare la testa, a guardare più in là rispetto alla contingenza quotidiana possa rappresentare un modo utile per dare senso anche al nostro stare dentro il Partito Democratico. Io voglio provare a toccare i punti decisivi che abbiamo affrontato in questi due giorni e provare a partire da lì a dire anche con chiarezza cosa siamo, cos'è quest'area, chi siamo, cosa vogliamo fare, cosa abbiamo in testa per il futuro dell'Italia oltre che per il futuro del nostro partito. Io penso che abbiamo fatto bene a partire dal merito e abbiamo fatto bene a provare ad alzare lo sguardo. Voglio raccontarvi in un istante una mia esperienza personale di pochi giorni fa quando ho avuto l'opportunità di parlare con un alto diplomatico di Shanghai italiano che ci rappresenta lì a Shanghai, un giovane che ha poco più di 30 anni ed è del mezzogiorno e lui mi ha in qualche modo fatto capire un punto di vista. Cioè se lo sguardo non è quello dell'Italia, se lo sguardo non è quello dell'Europa, ma se guardi a noi a partire da lì ti rendi conto che tutte le questioni che ci riguardano partono esattamente da un tema di fondo e cioè la marginalizzazione politica dell'Europa nel mondo. Può sembrare voler lanciare lontano la palla, ma io penso che è da lì che noi dobbiamo partire. È dall'incompletezza di quel processo di unificazione politica sul piano europeo che poteva essere esattamente la soluzione o quantomeno la risposta a questo fenomeno difficile da fermare della marginalizzazione politica ed economica dell'Europa nel mondo. Perché parto da lì? Parto da lì perché tutto ciò che ci riguarda, le cose di cui noi discutiamo, le ansie, le speranze, i problemi dei cittadini con i quali abbiamo a che fare, la lettura dei dati elettorali che sono esattamente figli di quella roba lì e cioè del sentire comune, del disagio di tanti cittadini. Io penso che vadano letti a partire da questa dinamica. Quante volte lo abbiamo detto? Siamo ad un incrocio senza precedenti tra crisi democratica e crisi economica e l'incrocio di queste crisi parte esattamente da quel piano geopolitico e da cosa sta cambiando nel mondo. Ed è quella roba lì che influenza il nostro essere. E anche qui se parliamo di cosa sono state le elezioni politiche in Italia nel 2013 e nel 2014 non possiamo chiuderci a noi. Guardiamo che cosa è significato il voto in queste elezioni europee in Gran Bretagna, in un paese civilissimo come la Gran Bretagna. Cosa è significato il voto in Francia? Cosa voglio dire in una parola? Perché è da lì che credo che la nostra riflessione debba partire. Siamo dentro una rottura senza precedenti. Siamo dentro una rottura senza precedenti del rapporto cittadini-politica. C'è una fiducia che non c'è più esattamente dentro quella marginalità a cui l'Europa è stata in qualche modo consegnata. E io penso che questo lo abbiamo visto in Italia drammaticamente nel 2013. E guardate lo abbiamo visto in qualche modo, in modo diverso anche nel 2014. Perché i problemi che c'erano allora, i problemi e i drammi della nostra società sono ancora tutti lì e non sono stati risolti. E guardate, lo abbiamo detto ieri, io voglio arrivarci soltanto in un istante, le politiche di consolidamento dei bilanci che sono state in qualche modo il dogma della nostra Unione Europea hanno provocato uno scompenso enorme. E io mi sento di dire che la prima grande battaglia che noi dobbiamo intestarci è esattamente questa. Matteo Renzi martedì sarà alla Camera dei Deputati e al Senato per confrontarsi con noi, col Parlamento, su questo semestre europeo. Io voglio dire con forza, a testa alta, che noi dobbiamo essere il partito che prova a cambiare l'Europa. Perché se l'Europa non cambia, l'Europa muore. L'Europa rischierà di non reggere più, di non tenere. E questo sogno straordinario, che per tanto tempo abbiamo riempito anche di retorica in tanti nostri discorsi, rischia di morire dentro quella marginalità a cui siamo consegnati. Io penso che l'Europa debba essere più forte. Pensiamo per un istante a cose avvenute a poche centinaia di chilometri dai confini europei. Dentro, diciamo, quello spazio di Kiev, dell'Ucraina, dov'era l'Europa? Possiamo immaginare di contare, di pesare, se poi quelli sono i fatti con i quali noi ci confrontiamo. E guardate che dentro questa rottura di sistema, l'Italia, per debolezze strutturali da una parte, penso al debito pubblico enorme, e da un'altra parte per la propria storia recente, una certa, diciamo, tensione ad accarezzare i populismi che qui abbiamo toccato con mano, ha rischiato di essere l'epicentro di un'Europa che non ce la fa più. E guardate che il 2013 e quel voto elettorale significava e ha significato esattamente questo rischio, l'Italia epicentro della rottura del rapporto politica-società. Io dico questo e lo dico con forza perché penso che il risultato delle elezioni europee allontana questo rischio dal nostro orizzonte. E anche qui, senza tentennamenti, io sono orgoglioso che il Partito Democratico, con il 40%, che è un nostro risultato straordinario, rappresenti l'argine e in qualche modo anche la risposta a questa rottura. È il nostro 40%. Ed è una posizione che io penso noi dobbiamo rivendicare con forza. C'è stato un ruolo, una funzione di Matteo Renzi, ma c'è stata anche una scelta di fondo che gli italiani hanno fatto. Una scelta non scontata. Si poteva decidere di mettere in discussione la tenuta del nostro sistema democratico. E invece gli italiani hanno scelto di dare fiducia all'unica forza politica che era l'argine della tenuta delle nostre istituzioni democratiche. Guardate, io ho fatto una lunga campagna elettorale come tanti di voi e in giro per l'Italia incontravo tantissime persone, voglio dirlo anche qui stamattina, che mi fermavano e che avevano la percezione, persone fuori dai luoghi della politica, che le istituzioni democratiche fossero esse stesse un problema per la vita quotidiana dei cittadini. Guardate, non è una cosa leggera quella che sto dicendo, perché se tu pensi che il Parlamento non è il luogo dove si risolvono i problemi del cittadino, ma esso stesso parte dei problemi che tu hai addosso, finisci per arrivare ad un pensiero drammatico e cioè che del Parlamento ne puoi fare a meno. Questo è il punto. E allora guardate, se dico questo e lo dico con la massima convinzione, penso che queste elezioni europee siano state veramente decisive, che noi ci siamo giocati la tenuta democratica del Paese e noi dobbiamo rivendicare a testa alta che oggi questa è la funzione del Partito Democratico. E così io leggo e declino quella formula che il nostro Alfredo Reichlin, che voglio ringraziare per essere stato qui con noi due giorni, dando anche, io penso, un esempio molto bello a una giovane generazione che ha sempre guardato a lui come riferimento. E guardate il senso della sfida, è esattamente questo. E noi ci sentiamo interpreti di questo cambiamento. Qualche mese fa siamo stati chiamati ad una scelta non facile. Quando abbiamo capito che rischiavamo di non farcela e abbiamo insieme deciso, anche con il nostro voto in direzione nazionale, di indicare Matteo Renzi come Presidente del Consiglio. Lo abbiamo fatto sul piano di una valutazione politica, difficile, dolorosa, per quello che Enrico comunque rappresenta per tutti noi. Ma lo abbiamo fatto per convinzione. Perché avevamo capito un punto, che è un punto politico decisivo. E cioè che lo scontro col quale noi ci confrontiamo è uno scontro tra campo democratico, campo delle forze democratiche e populismi. E ci rendevamo conto che quella leadership più carismatica, più forte, riusciva ad alzare l'argine, riusciva a farci reggere. Ed è per questo che il 40% che abbiamo raggiunto è un risultato straordinario, di cui dobbiamo essere orgogliosi e che dobbiamo rivendicare anche come un nostro risultato, senza dubbi e senza tentennamenti. Quella sera, cara Maria Elena, è stata una sera bella, ma una sera difficile. Io mi trovavo nella stanza con qualche amico, compagno di una comune lunga militante politica e anche con persone che conosco meno, con le quali non ho avuto a che fare, non ho avuto consuetudine in questi anni. Ma una cosa mi ha colpito quella sera ed è stato il comune senso di consapevolezza. Quando è uscito quel numerino magico che nessuno si sarebbe mai aspettato, quel 4 davanti, quel 40%, 4 italiani su 10, noi ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti, caspita, è dura ora, quanta responsabilità sulle nostre spalle. Nessuno ha stappato una bottiglia quella sera, ma il primo pensiero è stato esattamente quello, perché se gli italiani di fronte ad un bivio hanno scelto il campo della tenuta democratica, ora tocca a noi convincerli che hanno fatto la scelta giusta e dobbiamo metterci tutta la forza possibile. Per questo io penso che all'aspettativa e alla gioia di rappresentare un campo così largo, noi dobbiamo far seguire la qualità della discussione, il confronto, il merito e poi la capacità di portare fino in fondo i risultati. E anche qui voglio dire con nettezza, come la penso, su tutto. Sulle riforme condivido molto le cose dette da Guglielmo, penso che siamo ad un passaggio storico e penso che anche da lì passi un pezzo di credibilità della politica, perché è una politica che per troppe volte dice che riforma e poi non riesce a riformare, perde di credibilità e dà ragione esattamente a chi dice che nulla cambia e che tutto fa schifo. E allora guardate, tutto dobbiamo fare e dobbiamo avere il coraggio di discutere in un confronto aperto, dirò alcune altre cose su questo, ma penso che dobbiamo stare insieme sull'obiettivo di fondo. Pensateci solo per un istante, se fallissimo, se alle prossime elezioni politiche si riandasse a votare di nuovo per il Senato così come oggi. Con quale coraggio e con quali parole proveremmo a parlare a questo Paese? E allora sul terreno delle riforme io penso che noi, questa cultura politica, questa storia, dobbiamo avere il coraggio di dire che si va avanti e si va avanti con forza e con convinzione. Così come condivido molto le cose dette sulla legge elettorale. Sul Senato siamo convinti che il testo a cui si sta arrivando è un testo positivo, è un testo che risponde alle grandi questioni di fondo che c'erano sul tavolo a partire dal superamento del bicarbonialismo perfetto, la riforma del titolo quinto, non rientro qui nel merito perché non ce n'è il tempo. Sulla legge elettorale penso che abbiamo fatto un primo pezzo di strada, ma voglio dirlo con chiarezza, un primo pezzo di strada non ancora sufficiente, un primo pezzo di strada che deve essere completata. E abbiamo individuato tre punti, l'ho fatto io per primo, in dichiarazione di voto alla Camera, quando ho chiesto con tanti amici e compagni che avevano dubbi nei passaggi più decisivi, che non sono stati facili per noi, ho chiesto di far andare avanti questo percorso, perché sarebbe stato un suicidio fermare il treno delle riforme. Ma oggi quel treno è partito e noi quel treno dobbiamo non solo farlo arrivare fino in fondo, ma farlo arrivare nel modo giusto, perché c'è l'importanza delle riforme, ma c'è anche la qualità e il merito delle riforme che per noi sono irrinunciabili. Per questo ritengo che nelle prossime settimane, su almeno tre grandi punti sono stati detti prima, noi dobbiamo fare di più. La questione delle soglie della rappresentanza, la questione di genere che rappresenta una ferita in qualche modo vergognosa che portiamo sulla nostra pelle senza retorica, noi non possiamo su questi temi avere due facce sinceramente. E poi sul punto su cui si è detto del rapporto eletto elettore. Io penso che questo sia un punto decisivo su cui dobbiamo confrontarci, discutere, so che anche al nostro interno c'è un dibattito aperto, ma una cosa è certa, un Parlamento monocamerale non credo possa vedere liste bloccate in cui decide uno solo. Io penso che noi che siamo qui, che abbiamo deciso di fare un tratto di strada insieme, dobbiamo non giocare sulla difensiva, mai. Dobbiamo capire fino in fondo in che fase siamo, e anche sfruttare quella capacità che Renzi ha avuto di stare dentro questa rottura che c'è tra politica e cittadini. Pensateci per un istante, io mi sono interrogato in queste settimane sulla differenza tra il voto alle europee e il voto alle amministrative e la risposta che mi sono dato tra le tante è questa, quella più di sistema, e cioè mentre alle europee Renzi è riuscito a far passare un messaggio profondo di rottura rispetto a sistemi consolidati, i discorsi sulle camere di commercio, sulle prefetture, sulle ambasciate, una volontà di rompere anche rispetto ai soggetti sociali, Confindustria, CGL, ma su questo verrò dopo, noi quando siamo tornati sui territori abbiamo invece scontato spesso di essere noi il sistema che in qualche modo chiedeva di essere rotto. E allora guardate, io penso che noi in questa fase dobbiamo provare a capire come assumiamo questo elemento positivo di rottura, come ce lo intestiamo e come proviamo a incanalarlo dentro orizzonti valoriali che fanno parte della nostra storia. Noi dobbiamo dare una mano, si è detto ieri, io dico di più, noi dobbiamo essere protagonisti di questa fase di cambiamento e dobbiamo farlo per come siamo fatti, con la nostra autonomia e con le nostre idee, dentro una consapevolezza che io penso Renzi, la sua segreteria, i tanti amici con i quali ci confrontiamo devono sapere e conoscere e cioè la consapevolezza che più noi siamo autonomi e più noi siamo nelle condizioni di dire che cosa pensiamo sul merito e più siamo utili per fare quel partito migliore, non il contrario. Più noi siamo capaci di esprimere un punto di vista di merito sulle grandi questioni dell'Italia e più noi possiamo aiutare questo partito ad essere migliore, questo è il punto. Per fare questo ci vuole reciprocità, ci vuole capacità non banale di individuare una strada fuori da caricature, questo è un partito plurale ed è bello che sia un partito plurale, questo è un partito che deve essere orgoglioso delle proprie storie e permettetemi di dirlo, anche orgoglioso delle proprie personalità, diciamocelo serenamente e dobbiamo farlo a testa alta, voglio nel parlare della nostra storia solo per un istante dare un abbraccio, un momento di solidarietà a tutti i lavoratori dell'Unità che vivono un momento difficile, complicato e credo debbano avere il nostro sostegno. Noi abbiamo idee, abbiamo proposte, facciamo critiche che mai dovrebbero essere scambiate in maniera caricaturale come sabotaggio e crediamo che la diversità sia una ricchezza da valorizzare, mai da temere. Se diciamo un'opinione la diciamo esattamente per raggiungere quell'obiettivo che dicevo prima e di opinioni ne abbiamo. Ora sarebbe troppo lungo entrare nel merito di tutte le questioni, ma io penso che ci siano punti di fondo, l'abbiamo detto, sulla politica economica e finanziaria, il nostro rapporto con l'Europa. Ieri c'è stato raccontato di questo referendum contro il pareggio di bilancio. Io voglio approfondirlo, voglio studiarlo, voglio capirlo, ma non c'è dubbio che una delle questioni di fondo è la grande battaglia contro la miopia dell'austerità. E ancora, dobbiamo avere il coraggio di parlare di temi di cui troppo spesso si è parlato poco o si è avuto paura di parlare. Voglio dirne uno, la giustizia. Quando si parla di giustizia nel nostro campo spesso si ha paura. Io penso invece che a testa alta noi dobbiamo provare a dire come la pensiamo e cioè nell'istante stesso in cui affermiamo che c'è bisogno della massima durezza sul terreno della lotta alle corruzioni e della lotta alle mafie e della lotta per esempio all'evasione fiscale. Quindi massima durezza su quel terreno dobbiamo al tempo stesso saper assumere un'impostazione compiutamente garantista perché il garantismo è una parola di sinistra e l'articolo 27 della Costituzione è un articolo straordinario che noi dobbiamo difendere. E guardate anche quanto accaduto in Parlamento negli ultimi giorni deve farci riflettere. Io penso che il Parlamento, la Camera dei Deputati abbia sbagliato e noi abbiamo responsabilità enormi con quel voto predone sulla responsabilità civile dei magistrati che introduce ma non intruderà mai in realtà perché non è stata approvata al Senato e noi la cambieremo la responsabilità diretta. Ma una grande forza politica capisce cosa si muove nella società e quei voti purtroppo sono specchio di un'inquietudine e di qualcosa che non va. E allora io vorrei che questo pezzo di partito che ha presentato anche proposte di legge, ce n'è una di cui primo firmatario e Danilo Leva abbia il coraggio di dire come la pensa e non si nasconda mai sulle battaglie che sono battaglie giuste. E poi ancora, stamattina abbiamo discusso di lavoro, non voglio anche qui tornare lungamente nel merito, ma mi pare che il messaggio di fondo sul quale tutti siamo d'accordo sia questo. E cioè è impossibile immaginare che lo strumenti contrattuali nuovi siano decisivi per rispondere alla grande piaga della disoccupazione. Ok, discutiamo, discutiamo di contratti, discutiamo di regole, discutiamo di procedure, discutiamo quanto vogliamo e mi pare che questo contratto di inserimento possa essere la traccia più intelligente dalla quale far partire la nostra discussione. Ma continuiamo ad insistere che non basta solo discutere di questo se non si riparte dalla questione della domanda e dalla ripresa dei consumi. E questa partita degli 80 euro ha un senso e ci ha convinto, esattamente perché parte di là, perché se noi non ricreiamo condizioni di fiducia, anche se non è facile e ci vorrà tempo, se noi non rinneschiamo un circuito virtuoso, diverso dal circuito vizioso che invece abbiamo visto in questi anni, non ne usciremo. E allora anche qui abbiamo le nostre idee, così come quelle per provare a creare situazioni di contesto migliori, più semplici nel rapporto, in plesa pubblica amministrazione. E poi ancora i diritti, grandi assenti ancora del nostro dibattito pubblico. Quando mi capita di girare per l'Europa, quando mi capita di incontrare amici che fanno il mio stesso mestiere in Inghilterra, in Francia o in altri paesi moderni, mi rendo conto che non è più sostenibile il nostro ritardo sul terreno dei diritti. Ma queste parole chi è che deve dirle, se non noi? Tra l'altro permettetemi di salutare con affetto e anche con un applauso l'elezione di Giacomo Filibeck, vice segretario del PES, è un fatto positivo, importante. Giacomo è qui con noi e rappresenta un punto importante di tenuta della nostra rete di relazioni internazionali. Io penso che noi abbiamo un terreno, la grande questione della cittadinanza, la grande questione delle coppie di fatto. Noi siamo in un ritardo tremendo e chi se non noi può provare su questi punti con coraggio a fare un avanzamento vero. Come vedete ci sono molti temi su cui dobbiamo discutere, confrontarci e far emergere quel tratto autonomo e incalzante che vuol far bene al PD e rendere più forte il Partito Democratico. Ce n'è uno sullo sfondo, quello che in qualche modo ci sta più a cuore, quello che io ritengo il più importante. È la grande questione del partito, di cosa è il partito oggi e di cosa significa essere partito in una democrazia che è quasi senza partiti. Perché riflettiamoci per un istante, oggi assistiamo anche a un dibattito complicato dentro Selle, lo rispettiamo molto, proviamo ad avere un atteggiamento che sia appunto il più rispettoso possibile rispetto a quel dibattito. Ma io vedo un rischio enorme e il rischio è il seguente. Guardate, non bisogna aver paura delle leadership, non bisogna assolutamente aver paura delle leadership. E questo è un tempo in cui naturalmente ci sono leadership ed è bene che il PD abbia una leadership forte. Ma è evidente che una leadership non basta, c'è bisogno di un grande soggetto collettivo, c'è bisogno del partito e guardate che se non ce la facciamo noi a fare veramente un partito, un grande soggetto collettivo, ci dovremo consegnare all'idea di una Repubblica democratica senza partiti. Perché sapete indicarmi un altro partito oltre al Partito Democratico? Dico queste cose ancora una volta non con leggerezza, ma con la consapevolezza dell'enorme responsabilità che noi abbiamo. C'è una dimensione irrinunciabile di soggetto collettivo con la quale noi dobbiamo concentrarci. E io penso che il rapporto con i territori, il rapporto con i soggetti sociali, condivido molto anche qui le cose dette prima da Guglielmo, siano la strada sulla quale provare a costruire la funzione forte e autonoma di un grande partito come il nostro deve essere. O siamo noi a scongiurare il rischio di una democrazia fatta solo di leadership e senza partiti, oppure dovremo definitivamente rassegnarci a questa possibilità. E allora quando in queste ore, e lo rifaccio io con convinzione, noi diciamo che siamo pronti fino in fondo a dare una mano, e come ci viene chiesto a stare dentro la segreteria nazionale svolgendo quella funzione senza rinunciare a quella spinta appunto di proposta, di capacità di mettere in campo nuove idee, nel fare questo noi chiediamo alla segreteria nazionale questo grande momento di discussione in aperta larga su cosa sono oggi i partiti e su cosa noi oggi vogliamo essere. E anche qui guardate, abbiamo giocato troppo tempo sulla difensiva, ci si vergognava quasi di dire che un partito è una cosa bella. Noi dobbiamo riscoprire anche questo, ricominciare a dire che non può esistere una democrazia senza partiti e dobbiamo farlo noi perché se non lo facciamo noi non lo farà nessuno. E allora io sono convinto che Matteo Renzi, Guerini, Deborah Serracchiani possano rispondere positivamente, ben presto da qui alla fine dell'anno possa immaginarsi un momento del genere che non serve ad aria riformista o ad altri, serve al PD ma soprattutto serve alla democrazia italiana perché partiti in salute, partiti veri rendono più forte la nostra democrazia e noi questo dobbiamo affermarlo con forza. Io non voglio aggiungere altro se non un sentimento di gratitudine perché oggi abbiamo avviato dopo l'iniziativa dell'Eliseo un percorso, un percorso che è ancora un cantiere ma che vuole essere qualcosa di più, uno spazio, un momento di condivisione, un punto di vista, una volontà di provare fino in fondo a dare una mano. Io vorrò in queste ore provare a costruire un coordinamento politico di questo mondo insieme alle persone, donne, uomini che fanno parte per funzione del gruppo che ha iniziato a fare questo lavoro, noi abbiamo membri della direzione, abbiamo membri dell'ufficio di presidenza di Camera e Senato, presidenti di commissione, io penso che sia giusto partire da un piccolo nucleo centrale e poi provare provincia per provincia a far capire cosa stiamo facendo e qual è il messaggio di fondo che vogliamo lanciare. Voglio ringraziare anch'io tutti quelli che ci hanno consentito questi giorni, a partire da Lucasani, a partire da tutte le persone che prima ha nominato Micaela e voglio aggiungervi in modo particolare Vanio Balzo che ha svolto un lavoro straordinario, lo ringrazio, Vanio è un dirigente politico e io vorrei che lui insieme a questo coordinamento potesse darci una mano a gestire i mesi che verranno. Io voglio lasciarvi con un pensiero che è quello di fondo, che io penso sia alla fine l'asse sul quale noi dobbiamo collocare il lavoro delle prossime settimane. Io sento per me, per la funzione che svolgo, per la storia di cui sono orgoglioso e per la cultura politica che rappresento, io sento totalmente sulle mie spalle e spero la sentiate tutti voi, la responsabilità di rispondere a questa straordinaria fiducia che è arrivata al Partito Democratico. E vorrei che questo sia il messaggio di fondo. Noi sentiamo questa responsabilità e la responsabilità di guidare l'Italia e la responsabilità di realizzare il cambiamento e la responsabilità di chi pensa che ci è arrivata addosso una fiducia enorme e che a questa fiducia noi dobbiamo saper corrispondere. Quel Partito della Nazione per me è esattamente questo e in qualche modo la coincidenza tra l'interesse nazionale e la nostra capacità come Partito Democratico di essere all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte a noi. Io penso che ci siano le condizioni, che non dobbiamo aver paura, che dobbiamo discutere, confrontarci, ma poi dobbiamo saper decidere ed andare avanti. E il contributo di queste persone, di queste donne e uomini che sono qui oggi e che rappresentano territori, che rappresentano punti di vista in Parlamento, nelle amministrazioni territoriali, nei comuni, nelle regioni, io ritengo sia assolutamente indispensabile. Per questo grazie, grazie ancora, avanti insieme, forza area riformista e forza Partito Democratico.